emily sì mamma tieni da parte mia wow e le c'è lamborghini da parte di nonna questo della zia lucia tieni i miei preferiti quante uova è per me tu sei grande emily ti darà un pochino di cioccolata vero emily sì ma poco a poco mi raccomando si aprono a pasqua eh va bene adesso li metto a posto e vado a giocare quindi quest'anno niente uova io voglio proprio vederlo gliele apro tutte allora ragazzi apriamo le uova di emily il suo preferito eletta lamborghini così impara quella viziata apriamo subito la sorpresa wow è una penna guardate bellissima è allungabile fantastica questa è assolutamente mia prossimo uovo le avventure di pendington vediamo questo è il regalo della nonna beh nonna lo apro io ok visto che a tua nipote valentina non ci pensi wow ma è un portacchiavi delle avventure di pendington guardate che bello e anche questo è mio wow passiamo al prossimo uovo i trolls pensare che sono i miei preferiti a me quest'anno nessun uovo di pasqua mi pare normale secondo me non è normale ok adesso apriamo subito questo vediamo cosa c'è dentro la sorpresa ma che cos'è che carino questo troll è bellissimo e anche questo è mio adesso nascondiamo le uova così non le troverà e le sorprese saranno solo mie guardate quante sorprese mi sa che sta arrivando non dite niente ok ho finito di giocare valentina dove sono le mie uova è venuto un ladro e le ha rubate ma e tu non gli hai detto niente beh cosa dovevo fare mica sono miele uova ma mi dispiace veramente veramente tanto ma le mie uova mamma mamma